Non ti chiedo tante parole, ti chiedo a chi l'ha dedicata e a quanti siete felici? Allora innanzitutto quel ritorno in seriale lo dedichiamo al nostro allenatore Otto Foran che ci ha preparato benissimo sin dall'inizio dell'anno, poi ha avuto quel grave infortunio Non meritavamo, volevamo tornare in A1, è stato il nostro obiettivo tutto l'anno Devo dire grazie ai nostri allenatori, Marcus e Sighi che anche loro hanno dato tutto Ogni settimana hanno a casa bambini, moglie, però erano sempre lì a sostenerci E anche tutti i giocatori sono fiero di essere capitano di una squadra così E adesso andiamo a festeggiare e domani saremo di nuovo pronti a lottare per la Coppa Grazie mille e ciao a tutti La situazione penso di no perché questa squadra ha dimostrato che è una squadra che si amerita a giocare in playoff Non erano favoriti però siamo riusciti ad avere un buon livello con una squadra che veramente ha meritato di andare in gol Avevano troppo indivinito a forza e avevamo fatto una bella partita Non è stato il nostro migliore palamano però abbiamo mostrato con il carattere che veramente ci ha meritato di stare in questi gol Il nostro obiettivo era ci stare in Serie A Silver, penso che l'obiettivo aveva stato, questo era un plus E tutta la squadra penso che sarà felice di godersi questo semifinale contro una squadra così forte E un po' triste però così è l'esporto e sempre darà rivincita Auguri per la squadra di Eppan e saluti a tutta la mia famiglia che da lontano stava facendo un sopporto a tutti Forza Camerano e grazie mille a tutti